Registrato nel Vallo di Diano un nuovo caso di coronavirus, precisamente a Padula, nella struttura per anziani in cui nelle scorse settimane erano risultati positivi quattro ospiti attualmente ricoverati al Daprocida di Salerno. Questo è il quinto contagio fra gli ospiti della casa di cura. Intanto sono stati effettuati altri tamponi sugli anziani che si trovano ancora nella struttura, di cui si attende l'esito. Non venivano registrati contagi nel comprensorio valdianese dallo scorso 24 aprile. Per il Vallo di Diano è il 153esimo caso di covid-19 con 16 decessi, mentre nel Cilento il territorio non vede nuovi casi, dal 17 aprile precisamente. Nella giornata di ieri ad Agropoli sono state accertate altre quattro guarigioni dal virus, dopo le altrettante registrate lo scorso 25 aprile, che fanno scendere il bilancio cilentano a 15 attualmente positivi, 11 guariti e 3 decessi ad Agropoli, 3 positivi a Vallo della Lucania e a Casalvelino, 2 a Vibonati, 1 a Sessa Cilento, 1 a Laurino, 1 a San Mauro Labruca e 1 a Montecorice. Negli ospedali di Salerno ed Eboli, nella giornata di ieri, analizzati 490 tamponi, di cui 488 negativi.